Niente vetro, bombolette, spray e petardi, queste le disposizioni della Prefettura di Arezzo per il Capodanno nelle piazze aretine che presto saranno contenute in un'ordinanza inviata a tutti i sindaci del territorio. Sugli alcolici consumo sì, ma misurato e con maggiori controlli. Le decisioni sono state assunte durante la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine alla Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Anna Palombi, che si è svolta alla presidenza del Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Roberto Rossi, dei Vertici Provinciali delle Forze di Polizia, Vigile del Fuoco e Centrale Operativa del 118, oltre ai rappresentanti dei vari uffici comunali e della Polizia Locale. Le misure di vigilanza e controllo a protezione dei diversi obiettivi sensibili verranno intensificate soprattutto nei luoghi ritenuti a rischio e dove si registra una maggiore afflusso di persone. Particolare attenzione anche alle discoteche e locali di ritrovo e intrattenimento in merito ai quali si procederà ad una attenta verifica delle misure di sicurezza. Sotto stretto controllo anche il traffico illegale di fuochi d'artificio e la compravendita illecita di giochi e dispositivi pirotecnici, vietati comunque quelli legali nelle piazze assieme a vetro e bombolette spray.